Ciao abbinatori, oggi cantucci con zabaione al vinsanto e la malanima di retorto. Prepara l'impasto dei cantucci con uova, barley wine, zest d'arancia, zucchero semolato e muscolato, un pizzico di sale, farina doppio zero, burro, mandorle e pinoli. Realizza dei filoncini e spennellali con il burlo. Cuocili per 20 minuti a 200 gradi. Prepara lo zabaione con tuorli pastorizzati, zucchero e riduzione di vinsanto. Questo zabaione è perfetto per la malanima, un barley wine passato in botti di vinsanto. Tagliamo a fette i filoncini per realizzare i cantucci e poi di nuovo in forno a 180 gradi per 10 minuti all'alto. Farli raffreddare su una griglia, impiatta e preparati a godere forti. Pucciali in allo zabaione e mordili senza remore. Croccanti, dolci, profumati, lo zabaione al vinsanto gli dà quella spinta di sapore incredibile. La malanima è la birra ideale per godere questi cantucci e rilassarsi sul divano. Al prossimo abbiramento da Hoppy Chef!